Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto tappeti-tappeto Gasgai 249X156. Questi tappeti sono realizzati dalle tribù nomadi degli altipiani della Persia sud-occidentale. Presentano una grande densità di nodi, per essere tappeti prodotti dai nomadi. E i motivi sono tra i più affascinanti e diversificati tra quelli realizzati da popolazioni nomadi. Normalmente i colori usati sono rosso scuro e blu. Sono tappeti con un ottimo rapporto, qualità-prezzo perché molto pregiati. Lavorazione, annodato a mano. Spessore circa, 8 mm. Pelo, lana. Ordito. Lana. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione. Grazie. 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 Grazie.